Non abbassare la guardia ma rafforzare il servizio per far fronte al bisogno di cure e sostegno psicologico. È l'imperativo anche in quest'estate 2021 dell'Associazione Tumori Toscana che ha fatto il punto sulla propria attività. Una presenza, quella dell'ATT al fianco di malati e famiglie, che anche nel Pistoiese ha visto rispetto alla prima ondata di Covid un aumento di servizi infermieristici cresciuti del 28%, esami ematici, medicazioni o altro che prima venivano effettuati in ospedale e nei presidi sanitari ed ora lo sono nelle case degli ammalati. Come sono stati questi lunghi mesi? Difficili perché la nostra assistenza non è mai cambiata nella qualità però si è adattata alle restrizioni che comunque ci imponeva il momento. Siamo riusciti comunque ad affrontare un'enorme richiesta di attivazioni perché tutti quei pazienti che accedevano alla struttura ospedaliere per problematiche infermieristiche o mediche di supporto per le terapie antinoplastiche che facevano ce li siamo ritrovati comunque tutti a richiedere l'assistenza. I dati documentano nel 2020 una crescita delle richieste d'aiuto che l'ATT eroga gratuitamente un aumento del 22% sull'anno precedente dal 1 gennaio al 30 giugno di quest'anno sono state 53, un più 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Soprattutto pazienti giovani che hanno ricevuto una diagnosi tardiva perché comunque avendo difficoltà ad accedere alle strutture ospedaliere hanno ricevuto una diagnosi tardi e la giovane età ha, diciamo così, reso l'assistenza particolarmente provante dal punto di vista emotivo. Da un punto di vista pratico, la vostra è una onlus che lavora su tutto quanto il nostro territorio toscano segue tantissime persone, come raggiungervi? Allora, l'attivazione della nostra assistenza la può fare un familiare semplicemente chiamando il numero fisso che è trovato in rete e vengono chieste informazioni generali sulla patologia e i dati del paziente e dopodiché il medico di riferimento su quella zona programma una prima visita con i familiari e durante la prima visita viene spiegato nel dettaglio come funziona l'assistenza e come possiamo aiutare il paziente in questo periodo particolare della sua vita.